Un saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradale regionale. Degnaliamo che è prevista neve sul tratto appenninico della 1. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali e raccomandiamo di moderare la velocità. In Fipili ci sono 3 km di coda per un veicolo fermo o in avaria tra Firenze-Scandicci e Ginestra-Fiorentina nella carreggiata verso Livorno. La città metropolitana di Firenze informa che per Frana la strada provinciale 41 di Sagginale è chiusa all'altezza della località La Boscheta. Il traffico è deviato sulla SP551. Per il traffico urbano di Firenze nell'ambito dei cantieri tramvia segnaliamo da domani restringimenti notturni per lavori ai Pozzetti su Viale Strozzi, Viale Fratelli Rosselli fino a Piazzale Vittorio Veneto. Muoversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio!